Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Comanda l'andamento del tempo sempre l'anticiclone. Avremo ben poche novità rispetto ai giorni scorsi, ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 10 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibile sviluppo di nuvolosità irregolare sui rilievi prealpini a partire dal tardo pomeriggio. Ottima visibilità in quota, mentre in pianura saranno probabili foschi e nebbie nelle ore più fredde della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra meno 2 e 1 grado, massime invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo spesso nuvoloso in mattinata. A seguire invece ampie schiarite soleggiate dappertutto. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, solo con qualche addensamento, ma del tutto innocuo e senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 12-13 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.